Buongiorno a tutti, siamo arrivati all'ultimo video per quanto riguarda le schedine del Gigione campionato di serie B, tosto, divertente, come sempre pieno di sorprese ieri sera il Moden ha battuto 2 a 1 il Bari, quindi il Bari seconda giornata di campionato, già 5 pappine sulla capesa e 2 gol fatti 0 punti, vedremo alla prossima se riuscirà finalmente a tirarsi un attimino su perché ragazzi miei non so a Bari come prenderanno un altro campionato come quello dell'anno scorso Bari è una città che merita, non dico di tornare in serie A perché la concorrenza è tanta ma almeno di giocarsela questa serie A, non di essere sempre nei bassi fondi e andare a fare un miracolo a Terni dopo aver perso 3-0 in casa nello spareggio dei play-out, manco dei play-off, dei play-out, perdono il finire in serie C barra come la cavolo la chiamano, va bene, quello che è serie C, lasciamo serie C, restiamo al passato comunque oggi alle 19.30 si prosegue la seconda giornata con su Tirol Salernitana, una partita da aiuto aiuto arriva al lupo e qua al Gigione senza saperne leggere né scrivere si ha rischiato un bel X fisso vedremo se c'è azzecco Brescia Cittadella, uno X Cremonese Carrarese, uno Pisa Palermo, partita da aiuto aiuto arriva al lupo Pisa ambizioso quest'anno, il Pisa è ambizioso ah questo progetto se non ero con il buon Montella quindi se non sbaglio dovrebbe essere Montella però magari mi confondo con un altro però fatemi controllare che magari no ho sbagliato, non è Montella, è un altro allora aspettate che vado a vedere l'allenatore del Pisa perché mi sa che mi sono confuso anzi sicuramente perché era un allenatore che voleva il buon catto e diceva no, ha rifiutato ah no Pippo Inzaghi c'è Pippo 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 mio il buon Pippo quindi Pippo sapete che spesso ha portato le squadre almeno ai playoff poi è andata come è andata quindi Pisa Palermo 1-2 Sampdoria Reggiana 1 Sassuolo Cesena Derby Emiliano Romagnolo si parla Emiliano si parla si parla Emiliano Romagnolo Sassuolo Emilia Cesena città di mare zona Rimini Riccione eccetera egli per cui ragazzi miei uno voglio dare fiducia al Sassuolo dai diamo fiducia a questo Sassuolo Spezia Frosinone che evoca ricordi solo di qualche mese fa di serie no di due anni fa perché lo Spezia è sceso in serie B due anni fa e il Frosinone è sceso in serie B sia due anni fa che l'anno scorso il Frosinone fa così e anche qui metto un bel 1-2 ragazzi perché il campareggio no poi magari esce un 2-2 ci mancherebbe però voglio Catanzaro Juve Stabia e questa è una partita interessante perché il Catanzaro l'anno scorso si è giocato quinto in classifica si è giocato il playoff ha fatto la semifinale quindi il bidine la Juve Stabia è partita subito col botto andando a vincere in casa del Bari quindi 1-X ragazzi perché per il Catanzaro non sarà semplice infatti i pronostici dicono 2-20 l'1 quindi 1-X infine il neopromosso Mantova sfida il Cosenza in una gara interessante anche qui voglio dare fiducia alla squadra di casa dico 1-X detto questo andiamo alla schedina alternativa su Tirol-Salernitana gol pagato anche 1-99 Brescia-Cittadella mia rischio l'over 2,5 ma sarà molto 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 difficile se volete andare di under 2,5 ci sta però io non ce la faccio ragazzi non ci riesco a mettergli under mi dispiace Cremonese Carrarese over 2,5 a 2,10 Pisa-Palermo gol a 1,72 Sampdoria-Reggiana gol a 2,05 Sassuolo-Cesena over 2,5 a 1,85 Spezia-Frosinone gol a 1,65 Catanzaro-Juvesaria gol a 1,75 e infine Mantua-Cosenza mi arrisco anche qua il gol a 1,75 ragazzi quando ho visto Brescia-Cittadella ero molto tentato a metterla under 2,5 ma non riesco non ce la faccio è più forte di me non riesco a mettere gli under mi dispiace naturalmente voi che magari amate gli under eccetera e sapete magari perché le statistiche le cose io vado di pancetta affumicata gigione e via così come lanciare i dadi tanto è inutile ieri mi sono giocato 4 over 1,5 delle gare che si giudisputavano ieri sera prese tutte e 4 2,65 la posta mi va benissimo e oggi vediamo oggi vediamo adesso appena finisco di fare questi video di fare Don Gigi e Don Carubino magari faccio qualche schedina mia personale per qualche partita purtroppo non le posso vedere quindi è una sofferenza inutile non mi diverto perché un conto è le giochi e te le vedi in diretta e scleri anche se mi giochi i miei due euro canonici non è che gioco chissà che cif invece sono al ristorante posso solo vedere quando finiamo di fare il lavoro che sto mangiando mi metto lì mentre mi pappo le squisitezze dei cuochi mi guardo un po' quello che è successo così mi va di traverso a mangiare no vabbè non succede mica niente amen tanto sono due euro non è che vado a fare giocate è quello che consiglio sempre anche a tutti giocate per divertimento e fatevi un budget mensile di quello che potete spendere per le scommesse e quello che è io ho sempre fatto così e non ho quegli sti devo giocare finisco il mio budget mensile basta giocheremo il mese prossimo quindi piccolino il lotto il superena lotto si vince tutto la mia bella bacchechina in cui segno tutto e ci sono le cifre fisse non si sgarra perché se no diventa diventa un disastro diventa se uno c'ha un po' di cavessa ragiona così e e problemi di ludopatia eccetera non ce li ha se uno non riesce a ragionare così ragazzi miei deve correre ripare se ha voglia e se no pota come dicono a Bergamo ragazzoli vi saluto vi ringrazio siamo andati via veloci con la serie B tanto mi sa che come al solito ho guardato quanti hanno visto i video diciamo che per rispetto di quelle sette otto persone che le hanno guardati vado avanti a farli ma tendenzialmente potrei fare anche solo il campionato italiano e basta e magari dedicarmi a fare altri video di altro genere vabbè che tanto non è che cambia più di tanto però magari 30-40 visualizzazioni rispetto a 7 le faccio per ora vado avanti poi vedremo a ottobre che mi tranquillizzo con c'è da recuperare Shim MotoGP Formula 1 continuare a seguire il calcio e vedremo anche un attimino di fare qualche programmino nuovo naturalmente torneranno le news e le call news per la felicità del mio amico Beppe che non gli piacciono ma vabbè a me piacciono quindi continuerò a farvele ne sto mettendo anche da parte un po' che andrò a recuperare e inserire probabilmente inizierò settimana prossima a fare le nuove cartelle per le call news del futuro quelle di questi mesi che andranno all'anno prossimo e poi anche le news se c'è qualcosa di interessante tra l'altro purtroppo sono morti un paio di attori abbastanza importanti e quindi magari vi farò anche un video su questi attori che ahimè essendo diversamente giovane ho visto ma detto questo io vi saluto vi ringrazio se no mi picchiate e ci vediamo alla prossima ciao ciao